20 anni di carriera, 117 milioni di fatturato, 1 milione e mezzo di follower, 74 negozi nel mondo, uno sguardo esclusivo nella vita della stilista che ha realizzato il suo sogno di bambina. Sono Elisabetta Franchi, stilista, mamma, animalista ed io solo sa quante altre cose posso essere. Essere Elisabetta, giovedì 12 settembre alle 21.10 su Real Time, Canale 31.